pensate a una cosa vincere non vuol dire arrivare primo non vuol dire battere gli altri vincere e battere se stessi superare il proprio corpo i propri limiti e le proprie paure uomo vincere vuol dire superare se stessi e realizzare i propri sogni è l'ora di soffrire è l'ora di lottare è l'ora di vincere uomo bacia o muori